La risoluzione è 320x240 pixel Il lettore MP3 è caratterizzato da un disco rigido da 120 giga, questo vuol dire 30.000 brani, 25.000 foto che si possono visualizzare e archiviare, fino a 130 ore di video e tutto attraverso l'archiviazione dei dati su disco rigido via USB attraverso la connessione. Altre caratteristiche, la batteria è ricaricata agli giorni di litio, i tempi di riproduzione musicali sono fino a 36 ore con una carica completa, mentre invece la riproduzione video è fino a 6 ore con una carica completa. La ricarica appunto del lettore MP3 può avvenire tramite computer via USB o tramite alimentatore, però naturalmente optional da comprare e naturalmente esterno, separatamente. I tempi di ricarica sono circa 2 ore per una ricarica all'80% e per una ricarica completa circa 4 ore. Questo è il menu dell'Apple iPod classica, musica, video, foto, podcast, extra, impostazioni e brani casuali. Si entra con il tasto centrale e qui si può impostare il nostro lettore MP3, dal menu musica, limite volume, illuminazione, luminosità, audio libri, livello volume, clicca, data, ora, lingua, copyright, reset setting. Torniamo indietro cliccando il tasto menu, andiamo negli extra, altra funzionalità importante, qui troviamo la possibilità di impostare o le locali, calendari, rubriche a indirizzi, avvisi, giochi. Qui entriamo dentro nei giochi, abbiamo tre giochi, visualizziamo, entriamo dentro uno, vediamo che si riesce a sfruttare molto bene il display da 2.5 pollici di diagonale, viene caricato il gioco con una buona velocità e quindi si riesce a visualizzare molto bene il menu del gioco. Poi per uscire torniamo indietro, usciamo dal gioco, questi sono tre giochi note, blocco schermo, cronometro e torniamo nel menu principale. Questo è il menu del Apple iPod Classic, versione nuova, cari amici TecnoZoom, Apple iPod Classic funzionalità.